Ok, ora ripartiamo con... Era quello di prima e era il terzo round, ovviamente ho giunato le partite in corso Questo è il quarto round, se vinciamo, vinciamo il match, quindi... Proviamoci, ci proviamo Se gioco devo andare a destra però, perché se no stanno andando a sinistra per un po' pure palle Mi piace variare, solitamente, dipende dalla mappa pure Che sono... tipo quando gioco con il mitragliere, solitamente Sono posti in cui, che conoscono le mappe, che sono... Oro colato, per posizionarsi con la mitragliere, insomma Ok Ora sono un po' troppo esposto, quindi è meglio che ripiego un pochino La stanno facendo granate... Ovunque Ok, qua a destra riesco solo io a coprire, perché non è piacevole, ma ovunque Si fa, si fa, è il nostro lavoro, che devo dire? Sento qualcuno camminare, mi ha messo in un alleato dietro di noi Un attimo, grattari, braccio, maledizione, ok Nessuno vuole venire a destra Prima che la prima di gente vuole venire a destra, ma non ci sta più nessuno Ma vai a fare in culo Ok, ho deciso di cambiare all'ingegnere Ho anche il C4 Ho deciso di variare un po', perché solamente delle classiche... Non gioco mai Quindi vorrei, sì, variare appunto Si sta lanciando un po' granate, non si capisce Vorrei crepare per una granata amica, così Gli sto perdendo In automatico a sto giro, ci siamo... In zone chiuse con... Una SMG, insomma Dove sono? Non lo so Spero sia crepato Quello sicuramente Pure saltato in me Ok, a sinistra non ho nessuno a coprire Non è bella come cosa Stavo lanciando granate in modo smisurato, tipo Ho preso alfa, quindi... Sennò non sto cadendo più un cazzo, onestamente Perché fra esplosioni Mi tagliate a caso Quando non si capisce bene Cosa stia accadendo Sai che faccio? Io butto l'AC4 Perché se è visto, se è visto Mi scommetto le palle Che nessuno va a stare lì adesso Beh, giusto per fare un po' di casino Tanto qua tutti stanno a fare casino Ma vaffanculo Dove è uscito quello Oh, e mori Ma non si hanno le munizioni Comunque, l'hai penetrato l'arma E l'armatura è abbastanza notta di cazzo Non so dove faccio stare ancora in vita, onestamente Però non ci sono Eh, cazzo Non vedo Sono stato flashbangato Cazzo, eh Oh, ok Arriveranno? E dovevo passare di qua a molti nemici Penso, eh Invece no, ma sono l'ultima tesola sinistra Oh Oh Checato Nica l'ha visto Cioè l'ha visto quando l'ha già ucciso Già stato ucciso praticamente Stanno proprio stanno lanciando delle granate Del dubbio di carico perché tanto Ok, l'arriamo Ok, non penso anche a nessuno Dall'a sto punto Perché sono là, mezz'ora, nessuno viene Vediamo di qua Eh, io copro il vetro Visto quando sono solo fila Ma l'ho felato io pesantemente Ok, ho deciso di cambiare lo shotgun Visto che qua si è abbastanza chiusa con le mappe Quindi Se non possiamo fare pure un kill lo shotgun Vediamo un po' che si può fare Che si può fare, che si può fare Alcuno qua sopra Vediamo Alliati Quindi copro le scale Ma che faccio? Non so neanche cosa fare Cioè Perché qua è una bruttissima posizione Però si mettono là dietro Che non puoi raggiungere il distanziamento Perché la zona Sarà morto Che cazzo Io do la shotgun Però ovviamente Non è un'arma ad usare ovunque Ok Ok, la sta coprendo quello Io rimango qui È uno che lo muoia Se muore allora so cazzo male Ok Ok Intorno di qua Fami passare Ok Adesso abbiamo un mitragliere Là sopra Che ovviamente non riuscirò a bercare Oh, quanto tu la stai con la torcia canterna Finalmente Ok Questo mi è ancora Pulito per ora Ehm Sorprendentemente Sorprendentemente ok quello non l'ammazzo di certo così mi sa di no mi sa di no se non si dà una finestra magari riesco a eh magari magari riuscissi a farlo la volgecchino oppure adesso lui non stia più cagando questo lato qua che mi sa non cosa sta più facendo e ovviamente il lato negativo lo shot anche a scusa con un minuto di distanza va un po' lo lascia a desiderare ovviamente perché non è per la lunga gittata chiaramente non è per la lunga gittata vediamo un po' l'ho ucciso bella oro c'è chi non lo shot io attraverso ci provo pazzesco vabbè ragazzi abbiamo vinto non male io l'ho sciolto anche con le altre in realtà 8 kill e 3 morti pazzesco vabbè questi qua impazzescono come sempre questa cazzo io la ripeteremo stavo lasciato qua comunque vabbè ci becchiamo alla prossima ciao ragazzi ci becchiamo alla prossima ci becchiamo alla prossima